Delta Motors SPA, concessionario Mercedes-Benz delle province di Ancona e Macerata, si schiera al fianco della Cucine Lube Civitanova per il secondo anno. La partnership è stata ufficializzata nella serata di mercoledì 17 ottobre, nell'ambito di un evento di presentazione aperto a tutti presso la sede di Monte Cosaro, alla presenza degli amministratori delegati Gerardo Savini di Delta Motors e Albino Massaccesi della Lube Volley, del direttore sportivo Giuseppe Cormio e del capitano della squadra civitanovese Dragan Stankovic, insieme a lui anche tutti gli altri giocatori e lo staff del club cuciniero. La ragione di rinnovo è ancora una volta il sostegno per le eccellenze sportive del territorio marchigiano, che lega il progetto a quelli promossi in precedenza dall'azienda Dorica. L'iniziativa fa rientrare Delta Motors per il secondo anno tra i partner ufficiali del club con benefit di visibilità sul campo da gioco e sugli strumenti di comunicazione della Volley Lube. Emilio Lupo, direttore commerciale di Delta Motors, questa serata, la serata delle stelle, Lube e Mercedes, un abbinamento vincente, fatto di qualità, di gioco di squadra. E di tenuta anche. Sì, sì, diciamo di continuità, perché noi è il secondo anno che facciamo questa sponsorizzazione con Lube e Mercedes, due eccellenze che si incontrano nello sport, sia come tenacia, come gioco di squadra e soprattutto come vittorie, le vittorie che noi ogni giorno abbiamo con i clienti e quelli della Lube che hanno sul campo. Delta Motors è sempre più presente nelle marche ed ora con Lube e Walle state espandendovi anche a livello sportivo. Sì, ci stiamo espandendo molto a livello anche sul territorio e oltre a essere concessionari ufficiali sia per Smart e Mercedes e Hyundai delle province di Ancona e Macerata, abbiamo una new entry che è LD Store Mobility e quindi per le province di Ancona, Rimini e Pesaro e dove potremo proporre ai nostri clienti tutti i marchi. Oggi consegnerete ufficialmente le macchine ai giocatori, un giochetto veloce veloce, One Torena che tipo di macchina gli diamo? Allora, noi gli diamo delle classi A ai giocatori, delle classi B e anche delle classi C e sono delle macchine di lusso, delle macchine comunque importanti e sportive e sono logate proprio per loro. Osmani One Torena, tanto pubblico qui a Delta Motors, le macchine sono una sicurezza per voi, voi siete una sicurezza in campo, questo binomio è vincente. Sì, diciamo che è stata bellissima questa presentazione, non mi aspettavo tanto pubblico, tanta accoglienza, quindi bello, bello. Ormai è una collaborazione che è iniziata l'anno scorso per cui è andata molto bene, noi siamo contentissimi di andare per le strade con la Mercedes, è una macchina molto sicura, molto accogliente, per cui sono molto contento di portarla. Albino Massacesi, grande presenza di pubblico per la serata delle stelle qui al Delta Motors, una partnership con la concessionaria auto che si rinnova. Sì, direi che è una grande sorpresa quella che abbiamo trovato qui a Mercedes, perché a Delta Motors c'è un pubblico notevole, credo che siano molti clienti, spero che siano i loro clienti, ma credo anche che ci sia una partecipazione che sia anche quella sportiva del voler stare insieme a questa squadra, insieme ai nostri giocatori e credo che questa sia una serata veramente importante come inizio per un nuovo campionato. È naturale che questa partnership è veramente importantissima, perché onestamente lo sforzo che sta facendo Delta Motors è uno sforzo enorme per coprire un po' tutte le nostre necessità di atleti, particolarmente forse più gli stranieri che non gli italiani, che naturalmente comunque un'auto devono averla per viaggiare. E veramente avere questo tipo di auto, questa grande partecipazione, diciamo, se vogliamo anche tangibile dal punto di vista di un prodotto molto importante, credo che sia anche per gli atleti una cosa veramente piacevole. Beppe Cormio, si rinnova questa partnership con Delta Motors, l'anno scorso vi siete fermati all'argento, quest'anno? Abbiamo rispettato i colori della stella, quest'anno cercheremo di imitare i successi della Mercedes in Formula 1 e ottenere la vittoria di qualche gran premio. non sarà facile, però diciamo che le premesse per far bene ci sono, l'inizio è complicato del nostro campionato, però vediamo di fare del nostro meglio. Siamo ancora nella fase dei lavori in corso, devo dire, siamo abbastanza complicati anche nell'allenarci in questi giorni, però sono sicuro che le cose miglioreranno molto presto. Giuliana Grifantini, presidente del club Lube nel Cuore, tanta gente, tanto affetto intorno a questa lube nella serata delle stelle. Sì, questa lube anche quest'anno è amata da tutti, da tutti noi che siamo così vicini, l'abbiamo già visto a Perugia nel primo impegno di stagione, era oltre 300 persone che sono state presenti per i due giorni, c'è stato un tifo veramente meraviglioso, finalmente le maglie rosse sono arrivate in tutta la zona riservata ai tifosi e adesso ci stiamo preparando per l'inizio del campionato. Iniziamo domenica prossima con Ravenna, già abbiamo preparato la nostra coreografia, tutte le nostre attenzioni proprio per caricare la squadra ma anche tutto il palazzetto. abbiamo bisogno della gente che venga, che riempia questo palazzetto sempre e quindi ci adopereremo anche con iniziative affinché le persone possano passare dei momenti di inallegria all'interno del Palace, non solo guardando la partita ma anche prima della partita e durante il time out.